A chi è sta appuntamento? Entri, entri, neri, si sieda. Mi scusi del ritardo, signore. Ma devo informare che abbiamo venduto i fratelli Wong. A chi? Al Chelsea, in questo momento. Ce ne puoi fa due de colle nova adesso. Due colle nova? Ah, se volete, io ho tre gemelli filippini che all'occorrenza fanno pure le pulizie. Ma i tifosi... Ma si inventi qualcosa lei? Dica che in questo calcio avido non c'è più spazio per le bandiere. Oppure quattro gemelli siamesi che in barriera sono battibili. Su con la vita. Oh, buongiorno, commendatore. Ne riconosce il commendatore Balsani? Glielo presento. È il nuovo proprietario della Cicolle Novo. Ciao, caro. Mi scusi, si arriva il collico, è arrivato all'elicottero. Oh, mi vogliono a Londra per il contratto. Come, non era già tutto a posto? Sì, però sai, a Londra è meglio controllare i cavilli, gli asterischi, le clausoline. Poi approfitto, lì si gioca. Mica come qua, che si giocano soltanto i tiri in porta, i gol. Lì si può giocare qualunque cosa. I corner, i pali, le traverse, i fischi, i falli, le punizioni.